Presidente, oggi un primo passaggio parlamentare per l'autonomia? Beh, un grande risultato, una giornata storica e soprattutto è una pietra miliare alla quale poi si sommerà un'altra pietra miliare, il passaggio alla Camera e quindi avremo la pubblicazione in gazzetta ufficiale e finalmente potremo dire di avere la legge quadro sull'autonomia per poter firmare l'intesa, cioè il famoso contratto tra la Regione e lo Stato. Quali sono i vantaggi secondo lei? Ma guardi, l'autonomia è efficienza, una vera assunzione di responsabilità, la diminuzione delle catene decisionali per cui il cittadino ha un interlocutore certo e soprattutto è in grado di controllare il suo interlocutore. Il Paese sarà diviso? Il Paese non sarà assolutamente diviso, questa è una leggenda metropolitana che va sfatata. Le faccio un esempio, si pensi alla Germania che è un'autonomia veramente importante ed è percepita da noi come una grande nazione. Che cosa sono i LEP? I LEP sono i livelli essenziali delle prestazioni. Sono la volontà di definire che alcune, un pacchetto di prestazioni, diciamo quindi di servizi che si erogano ai cittadini, abbiano uguale qualità da nord a sud di tutto il Paese ed è giusto che sia così. Parlando con la gente, sono proprio i giovani oltre a chiedere l'autonomia. Perché secondo lei? Ma perché l'autonomia è modernità, il centralismo che sta letteralmente devastando il nostro Paese è un centralismo medievale che non funziona più, tanto è vero che si dice che l'Italia è a due velocità, è vero, ma lo è per colpa del centralismo, non per colpa dell'autonomia, non esiste. Questo è un governo che ha puntato molto sull'autonomia. Questo è un governo, è l'unico governo che ha scritto una vera pagina di storia introducendo a dicembre 2022 nella finanziaria 2023 l'obbligo della definizione dei LEP e poi successivamente, qualche mese dopo, febbraio-marzo 2023, la legge Calderoli che porta i principi generali dell'autonomia che è esattamente quello di cui stiamo discutendo in queste ore. Quali saranno i prossimi passi per quanto riguarda la Regione Veneto? Per quel che ci riguarda attendiamo veramente con ansia che venga approvata definitivamente anche alla Camera la legge dell'autonomia, quindi sia in gazzetta ufficiale, da quel momento presenteremo la nostra proposta di intesa, quindi di accordo con lo Stato e ovviamente ci sarà un dibattito, ci sarà una trattativa e dopodiché si partirà. I Veneti si erano espressi in maniera molto chiara nel 2017? 22 ottobre 2017 resterà una data storica, 2.378.020 sono andati a votare, è stato un plebiscito a favore dell'autonomia. Qualcuno allora diceva che era inutile andare a fare il referendum. Oggi diciamo grazie ai Veneti che ci siete andati perché se non avessimo avuto questa chiamata, questo fiume in piena del Veneto, oggi non saremmo qui a parlare di autonomia.